Vuoi ottenere un interesse dell'1% al giorno garantito e senza nessun rischio? Investi 1000€ con noi e tra meno di un anno avrai abbastanza soldi da poter scegliere di non lavorare mai più nella tua vita. Bello, vero? E sei stato così fortunato che tra tutte le persone del mondo, questi immensi benefattori hanno scelto proprio te per offrire il loro piano di investimento super garantito e super profittevole. No, aspetta un attimo, forse non è proprio così. Le truffe, soprattutto in ambito finanziario, ci sono sempre state e ci sarà sempre qualche nuovo furbetto che riuscirà a girare qualche cacciatore di guadagni facili con nuove proposte talmente belle che non sembrano vere. E infatti, nella maggior parte dei casi, non sono vere per niente. Con l'avvento di internet poi le truffe online hanno preso il sopravvento e proprio in periodi come quello che stiamo vivendo quando i mercati sono incerti ed è difficile vedere in poco tempo dei risultati dai nostri investimenti a lungo termine, ecco che tornano ad aumentare i tentativi di truffe e raggiri ai danni di piccoli e grandi risparmiatori. E dato che ultimamente sento spesso persone che mi dicono Oi Cree, ho visto questo tizio che ha fatto questo investimento super sicuro e... E no, forse quando vedete situazioni del genere è meglio che vi fermiate un attimo e vi facciate due conti. Perché anche se una persona che conoscete è riuscita effettivamente a guadagnare dei soldi da ciò che vi stanno proponendo, forse nel migliore dei casi siete solo davanti ad uno schema Ponzi. Lo schema Ponzi è un tentativo di truffa nel quale a poche persone, quelle che entrano nel sistema nelle prime fasi, viene effettivamente garantito un profitto ampiamente superiore agli standard, ma a discapito di tutti coloro che vengono coinvolti successivamente. Questo metodo truffaldino è diventato famoso grazie a Carlo Ponzi, un immigrato italiano negli Stati Uniti, che aveva visto una grossa opportunità di guadagno nel nuovo sistema dei buoni postali di risposta internazionale. Salvo poi rendersi conto che nella pratica l'investimento che voleva fare non era quasi per nulla redditizio. E allora invece che fermare il proprio business, Ponzi continuò a raccogliere investimenti e a garantire gli interessi che aveva promesso, anche se non c'era nessuna reale fonte di entrata, se non proprio quella garantita dai nuovi investitori che le affidavano i loro soldi. Per capire nel dettaglio cosa fece Ponzi e come funziona questo tipo di truffa, proviamo a fare un esempio molto pratico e banale. La Zio Paperone SRL offre ai suoi investitori l'1% di guadagno al giorno sui soldi investiti. Nei primi giorni tre giovani investitori, qui, qua e qua, decidono di investire 1000€ a testa. A questo punto l'azienda ha un totale di 3000€. Dopo 100 giorni il primo investitore, qui, decide di ritirare il suo capitale e gli interessi che ha guadagnato, quindi un totale di 2000€. La Zio Paperone SRL dà la possibilità a qui di prendere indietro i suoi soldi, restando quindi con un capitale di 1000€. E lo fa perché sa che a questo punto, qui, felice dell'investimento che ha fatto, andrà a raccontarlo a Paperino e a Paperina, che decideranno di investire a loro volta 2000€ a testa, aumentando il capitale totale nelle mani dell'azienda a 5000€. Dopo altri 100 giorni, i due fratelli, qua e qua, decidono di ritirare i loro soldi, che nel frattempo sono diventati 3000€ a testa. Zio Paperone a questo punto si rende conto che non può permettere questo prelievo perché incassa solo 5000€, mentre per liquidare i due dovrebbe sborsarne 6000€, così invece che accettare di restituire i soldi a qua e qua, chiude la società e sparisce dalla circolazione con i 5000€ che gli sono rimasti. Chiaramente questo è un esempio molto, ma molto semplificato, in cui neanche si tiene conto dell'interesse composto che farebbe capitolare la società molto prima di quei 200 giorni, ma dà bene l'idea di come funziona uno schema Ponzi. A pagare gli interessi ai primi investitori sono sempre i soldi forniti dagli investitori che arrivano più tardi e questo tipo di meccanismo va avanti finché chi gestisce la società non decide di bloccare lo schema e sparire coi soldi. Ora sicuramente se vi rendete conto di essere di fronte ad uno schema Ponzi, ci sono almeno un paio di domande che dovreste farvi prima di entrarci, anche se siete convinti di essere nelle prime fasi dello schema e quindi di poterne uscire dopo poco tempo con dei guadagni facili perché credete di riuscire a fregare il sistema. La prima domanda è etica e magari a qualcuno potrebbe importare poco, ma è giusto sfruttare uno schema Ponzi e guadagnare un po' di soldi a discapito dei poveracci che arriveranno troppo tardi e perderanno tutto? In questo caso, se il vostro piano va a buon fine, intanto potete ritenervi dei complici dei truffatori. Ma se anche come zio Paperone siete disposti a convincervi che la risposta alla prima domanda è un bel Ma sì, che me frega! La seconda domanda vi dovrebbe far desistere perché vi tocca personalmente. Come faccio a sapere che proprio nel momento in cui io decido di investire i miei soldi, la catena non si blocchi e lo schema venga fatto corollare? E a questa domanda, cari miei zio Paperone, non potrete mai avere una risposta, a meno che non siete voi stessi i creatori dello schema. Quindi se vi rendete conto di avere davanti uno schema Ponzi, anche se vi promette guadagni allettanti, desistete. Desistete perché se vi fate due calcoli molto semplici, vi renderete conto che la possibilità di uscirne effettivamente con dei guadagni è davvero molto ma molto bassa. Ed è bassa perché se anche è vero che il più eclatante caso di truffa con schema Ponzi, quella di Bernie Madoff, è andata avanti per quasi 40 anni, nella maggior parte dei casi il castello di carte crolla molto presto, tanto più è alto l'interesse garantito agli investitori. Immaginate un interesse dell'1% al giorno. Quanto credete che possa durare una società che promette degli interessi così alti? Sicuramente è molto probabile che la durata di vita complessiva di una truffa del genere sia di qualche giorno o al massimo di qualche settimana. Ora, la cosa che alcuni di voi si staranno chiedendo è ma come faccio a capire se la società che ho di fronte mi sta proponendo un investimento lecito oppure è uno schema Ponzi? E a questo proposito ci sono un po' di cose a cui dovete stare attenti e che possono farvi capire se quella che avete di fronte è una truffa oppure no. Innanzitutto la parola interesse garantito. Nel mondo della finanza, che si stia parlando di azioni, obbligazioni, cripto o di qualsiasi altra cosa, non esiste alcun interesse garantito e non esistono investimenti sicuri. Se vi stanno proponendo di investire in un fondo di investimento, non c'è alcun interesse che possano garantirvi, se non uno estremamente basso, come quelli all'1% annuo che offrono alcuni conti deposito, ma difficilmente potranno garantirvi molto più di questo. Seconda cosa, se vi stanno offrendo dei rendimenti troppo alti, allora probabilmente è una truffa. I mercati azionari negli ultimi anni hanno mediamente offerto rendimenti poco superiore all'8-9% all'anno. Questo significa che se vi offrono rendimenti più alti, o addirittura molto più alti di questi, tipo il 30% all'anno o cose del genere, allora dovrebbe perlomeno suonarvi un campanello d'allarme, perché ricordate, più alto è il rendimento, più alto è il rischio di perdere tutto. Inoltre, quando si parla di investimenti e non di speculazione, gli intervalli di tempo che dovete considerare sono di anni, non di mesi, settimane o addirittura giorni. Quindi se vi parlano di interesse del 10% mensile, del 6% a settimana o addirittura dell'1% al giorno, allora state pur certi che siete di fronte ad una truffa bella e buona. Infine, fate sempre attenzione alle modalità di prelievo che vengono offerte per ritirare i vostri soldi. Se ci sono commissioni elevate per il prelievo o vengono utilizzate in modalità poco trasparenti e per niente intuitive, allora fate attenzione perché se prelevare è complesso, forse proprio perché non è previsto che la maggior parte degli investitori riceva indietro i propri soldi. Fatemi sapere nei commenti se voi o qualcuno dei vostri conoscenti è mai stato vittima di truffe come questa e se conoscete qualcuno che ha ricevuto proposte poco convincenti, condividete con lui questo video per metterlo in guardia e aiutarlo a capire se ciò che li stanno proponendo è una truffa o un business lecito. Se questo video ti è piaciuto ti chiedo di supportare il mio canale lasciando un like e se sei in quel 90% di brutte persone che guardano i miei video senza essere iscritti al mio canale, clicca sul tasto iscriviti e attiva la campanella. Dai, che ci vediamo al prossimo video. Se vuoi investire online una parte dei tuoi risparmi, il modo più semplice e sicuro a mio parere è farlo con Moneyfarm, il consulente finanziario online italiano e indipendente che ti guiderà passo passo alla creazione del tuo primo portafoglio di investimenti in maniera semplice e veloce. Scopri di più guardando il video che ti lascio qui sotto e se vuoi ottenere uno sconto sui costi di gestione del conto nei primi sei mesi iscriviti attraverso il link che ti lascio in descrizione.